Musica Ragazzi siamo qua, praticamente, sembra un'officina meccanica dell'Audi, ma non lo è. Ragazzi siamo qui, anche noi dello zoo, perché crediamo fermamente che esistano degli esseri superiori a noi o forse degli spiriti. Io sono straconvinto che dentro questa cazzo di golf ci sia un fantasma. Adesso ve lo dimostro, vieni con me, ve lo dimostro. È chiusa, non posso dimostrarvelo. Però anche voi, come noi dello zoo di 105, seguite i Ghost Hunter Team. Ci ho fatto, l'ho detto giusto? Perché dicono un sacco di cagate, secondo me, però un fondo di verità c'è. Non so dove, ma c'è. Forse. Ciao, andate a fare in culo.